Allora, Luchezia, che cosa vuoi fare? Voglio volare con papà, ma con i motori e con le ballute. Con che cosa? Con che cosa vuoi volare? Con i motori e con i motori e con le cadute. E il pollo, i fagiolini. No! E la brittata con la vasità intensa da papà. Il para? Motore. Para? Cadute. Para? Cadute. Para volute. Para volute. Te.